Villaggio della Salute a Chieti il 13 e 14 giugno presso la Villa Comunale, spazio al mondo della salute e del benessere, dove i cittadini potranno usufruire di prestazioni mediche a titolo completamente gratuito. Scopo dell'iniziativa? Divulgare il concetto di prevenzione. Lo porteremo alla Villa Comunale, dove daremo spazio per due giorni, il fine settimana, sabato e domenica, a tutta la cittadinanza per poter fare degli controlli gratuiti, screening, addirittura faremo anche delle proiezioni e simulazioni per chi vuole andare in pensione, quindi metteremo a disposizione anche come confartigianato tutte le strutture del patronato, tutte le strutture di assistenza sul sociale, per dare una risposta a tutta la cittadinanza, per dare un segnale comunque di vicinanza in un momento difficile per l'economia in generale e per i cittadini, un servizio che possa rispondere alle tante esigenze dei cittadini. Sarà presente anche l'Università d'Annunzio che metterà a disposizione competenze, e professionisti, per effettuare gratuitamente check-up in un solo giorno e senza liste d'attesa. L'aspetto che emerge da questa attività e da questo evento in particolare è la presentazione della Scuola di Medicina dell'Ateneo d'Annunzio come una struttura, come una risorsa per il territorio, una risorsa di cui il territorio usufruisce, grazie anche all'imbricazione fra i nostri docenti universitari e gli ospedalieri delle asle di riferimento.